1, 2, 3, si? Oppure potete fare, piano e zucchi, 1, 2, 3, vedete che sono 3 diverse, scendo, rinvalzo, acqua, ok? 3 tipi, più o meno l'impatto è lo stesso, piano, fate, la massa che arriva è più o meno la stessa, perchè è sempre più liquido che arriva a massa, si? Dai, piano,